un cordele saluto buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di fano tv sul canale 17 buon inizio settimana e buon inizio mese perché siamo al primo di marzo iniziamo questo mese che lo iniziamo anche con un colore che ci costringe a qualche restrizione in più il colore arancione in tutta la regione Marche un po' come in tutta Italia allora iniziamo come sempre con il santo del giorno lo vediamo subito Sant'Albino di Anders il sole è sorto alle 6.48 e tramonterà alle 17.59 il meteo di oggi secondo il bollettino della protezione civile delle Marche allora cielo sereno poco nuvoloso con temperature in diminuzione quelle della notte fa freddo attenzione anche alle gelate al gelo soprattutto nei fondovalle siamo a temperature molto rigide intorno ai 0 gradi perlomeno qui sul fanese per martedì 2 domani ancora cielo sereno poco nuvoloso attenzione durante la notte alle gelate nei fondovalle ancora condizioni tempo stabile soleggiato pioverà torno al fine settimana prossimo questo fine settimana potrebbe tornare la pioggia allora andiamo a vedere i giornali cominciamo dal Corriere Adriatico l'edizione di Pesaro ci ignorano sulle barricate Marche dimenticate dal governo la sveglia di Guzzini niente frecce rossa blocchiamo la ferrovia quindi come avete capito l'apertura questa mattina non è per il covid non è per la zona arancione ma è sulle infrastrutture sul fatto che la regione è praticamente dimenticata dal governo e Guzzini sveglia dalla carica addirittura arriva a dire blocchiamo la ferrovia perché non abbiamo nemmeno più il freccia rossa insomma ammesso che l'abbiamo avuto qualche volta ma abbiamo il freccia bianca più o meno i sindaci provano a scavalcare la regione lanci protesteremo al MIT ci diano un sottosegretario a centropagine invece controlli antivirus musiche alcol rave party c'è una festa una festa che è stata fatta in un organizzato in un garage poi rissa convocata sulla chat l'ultima sfida dei ragazzini a Pesaro e poi cade dalla moto e lo travolge paura per un giovane crossista vaccini ai docenti si parte a Fano domani a Pesaro si torna invece al solo asporto il ristorante sul baratro la testimonianza di Lorenzo Vedovi di Ristori Italia nel 2020 ho perso 84 mila euro dice Ristori invece per 9 mila meno studenti trasformiamo il centro ducale in hotel diffuso centro ducale quindi a Urbino ma di spalla si parla anche di questa incredibile partita tra Carpi e Fermana il folle record dei quattro rigori sbagliati non era mai successo scrive Marco Malavasi sul Corriere di questa mattina non era mai successo in Italia che quattro rigori venissero sbagliati nella stessa partita dalla serie A alla serie C lo dicono gli esperti di cifre foli del calcio quindi passerà alla storia lo 0 a 0 di Carpi Fermana viziato da quattro errori clamorosi dal dischetto due della Fermana nel primo tempo e due dei modenesi nella ripresa da Ancona varianti il contagio è senza freni titolo del resto del Carlino l'incidenza supera il 30 per cento Ancona è sempre più colpita morto un sessantotenne non aveva altre patologie mentre a centropagina questa immagine meravigliosa di Porto Novo solo sole primaverile voglia di evasione contro il covid assembramenti sul paradiso e di assembramenti si parla anche sul Carlino di Pesaro la foto non è è tutt'altro che paradisiaca siamo comunque nella zona del mare zona arancione vigilia conressa pienone ovunque nell'ultimo fine settimana zona giallo tante anche le multe variante inglese sei casi in città provincia di Pesaro accerchiata dopo i contagi ad Ancona Rimini e Perugia ma l'incidenza complessiva resta bassa operazione al via oggi vanno iniziano a vaccinare gli insegnanti si parte dal codma di Fano con i primi 70 e poi le aziende che resistono i lavoratori invece no cade facendo motocross giovane soccorso dalle le ambulanze incidente alla torraccia poi allarme bomba mai solo un fusto di birra questo è successo a Fano scontro cinghiale agricoltori caccia tensione per le nomine all'ATC1 e sotto invece lo sport WL Repesia sta meglio l'allenatore lo ricordiamo è positivo al virus ma Calbini è pronto il suo vice il Fano invece spera e soffre pari con Ravenna in vantaggio con Gentile sfiora il raddoppio ma il secondo tempo è tutto per gli ospiti apriamo il Corriere Adriatico che diciamoci la verità in questi ultimi tempi soprattutto in tempi di pandemia è davvero sul pezzo con tanti articoli interessanti e con notizie sempre aggiornate anche rispetto alla concorrenza in maniera molto più molto più incisiva allora da oggi zona arancione con oltre 650 ricoverati i vaccini ai docenti al via stop a bar e ristorante dancone macerata restrizioni rafforzate per le scuole non eravamo a questi livelli di contagio dai primi di gennaio ieri ci sono state anche sette vittime e dunque Andrea Taffi scrive mettiamoci il cuore in pace non sarà una zona arancione rinforzata per Ancone macerata che passerà presto oggi è il primo giorno il giorno in cui iniziamo anzi iniziano i vaccini ai docenti e ci vorrà pazienza lo dice la progressione dei contagi degli ultimi giorni lo dicono i medici di prima linea lo dicono gli indici della capienza dei reparti covid in ospedale il tentativo di temporeggiare di temporeggiare convivere con il virus dopo le vacanze di Natale è servito a ben poco il focolaio di Ancona sta trasmettendo anche nelle province limitrofe e bisogna correre dunque ai ripari nei tamponi molecolari l'incidenza dei positivi torna a sfiorare il 30 per cento ci sono 2000 persone in quarantena per il contatto con infetti 2000 persone in tutta la regione ma c'è una buona notizia che comunque sono in calo i pazienti di terapia intensiva sono 72 in questo momento in tutta la regione quelle ricoverati meno 5 dunque rispetto ai giorni scorsi mentre quelli in semi intensiva sono 164 ce n'è praticamente uno in più e poi c'è un'intervista interessante alla direttrice del pronto soccorso obi di torrette contucci susanna contucci ha 58 anni direttore facente funzione del sod pronto soccorso osservazione breve intensiva agli ospedali riuniti di torrette di ancona la quale dottoressa la quale direttrice dice per fortuna che il tampone antigenico rapido e quello molecolare rapido ci stanno dando una grossa mano soprattutto per quanto riguarda il sistema che sta reggendo all'interno degli ospedali ma gli operatori sono un po in difficoltà e questi tamponi ci danno la possibilità di riconoscere subito i casi non potendo arrivare alla sequenze attività del laboratorio di virologia e per quanto riguarda invece tra le varie domande interessanti che fanno che fa taffi c'è anche quella che è la madre di tutte le riflessioni con il seno del poi ovviamente e la domanda è bisognava chiudere a novembre oppure visto che non abbiamo non lo abbiamo fatto e la direttrice e la contucci dice io direi che più che novembre bisognava chiudere anche prima perché soprattutto a ottobre quando è ripartita la seconda ondata sono perplessa per i comportamenti della gente questo è ciò che va sottolineato e che sottolineiamo noi ogni santa mattina qui in rassegna stampa i comportamenti della gente sono perplessa dice mi sento quasi dissociata tra quello che viviamo noi qui dentro cioè dentro l'ospedale in corsia tra i malati tra coloro che ci lasciano anche le penne e chi sta fuori che evidentemente fa difficoltà a comprendere o fa finta di niente aggiungo io le racconto un episodio sull'imbarazzo che vivo e qual è questo episodio qualche giorno fa dice ancora dottoressa mi sono rifiutata di andare per il corso non volevo vedere infatti tutta quella gente che girava in centro e ieri di gente che girava ce n'era una mareva lo vedremo tra poco dalle fotografie dei giornali vaccini agli insegnanti invece oggi si parte a fano domani tocca a pesero proseguirà parallelamente la profilassi per gli over 80 fidando anche sullo stesso personale nei tre centri indicati si sono prenotati 3532 docenti gli appuntamenti sono fino al 15 di aprile ora le classi sono in quarantena in provincia sono 259 sì è un po' un fatto strano cioè da oggi iniziano a vaccinare i docenti però poi di fatto c'è la didattica a distanza per tutti quindi siamo tutti a casa sono tutti a casa sia gli studenti che gli insegnanti ma comunque va bene e questo è il programma e si va avanti così poi ci saranno le forze dell'ordine eccetera eccetera dicevamo delle fotografie guardate fano fano ieri che ha celebrato l'ultimo happy hour come se fosse la fine del mondo e fioccano verbali e locali ai clienti in città ha chiuso il bar delle scienze affano chiuso il bar delle scienze multati quattro ragazzini a zonzo oltre il coprifuoco quindi dopo le dieci di sera nell'entroterra invece a pergola spuntano affollate tavolate mentre a urciano 200 persone assembrate interviene l'arma ora è chiaro che insomma la gente soprattutto insomma i giovani come vedete dalle fotografie ecco per esempio qua ce n'è uno addirittura senza proprio mascherina esasperata non ne può più sfinita vuole tornare alla normalità la normalità invece ancora è molto lunga sarà molto è ancora molto lontana quindi è inutile illuderci forse ci salverà l'estate ma ancora per l'estate ci sono diversi mesi quindi insomma questa è un po la situazione intanto da fano il Corriere Adriatico sui ristoranti e bar che da oggi per esempio saranno aperti solo per l'asporto esperienze che abbiamo già vissuto cioè si va al bar si fa fare un cappuccino da portar via si prende una brioche un salato da portar via e per il resto bisogna arrangiarsi molti mangiano in macchina fanno colazione in macchina qualcuno lì nei pressi del bar anche se non si potrebbe insomma e si va avanti si tira avanti ancora per quanto come dicevamo prima non si sa ma sarà lunga sicuramente resteremo arancioni almeno fino a dopo Pasqua quindi ci sarà ancora un mese più o meno così anche se il governatore diceva che forse per Pasqua a Quaroli se faremo i bravi qualcosa cambierà addirittura avanzava l'idea che si potesse riaprire a cena anche dopo cioè si potesse riaprire i ristoranti anche dopo le 18 quindi anche per la cena ma visto il comportamento visto come stanno andando le cose credo proprio che non sarà non sarà proprio così ma comunque ristoranti e bar da oggi solo a sport persi 84 mila euro dice Lorenzo Vedovi di Ristori Italia mentre i ristori cioè quello che hanno ricevuto dal governo rispetto agli 84 mila euro persi sono soltanto 9 mila euro quindi praticamente nulla la chiusura è una doccia fredda c'è chi per reazione coltiva propositi estremi e quando si comincia a ragionare in questi termini chiaramente tutto diventa molto più complicato scrive Massimo Fughetti le aziende portate sull'orlo del fallimento mentre nelle case fanno riunioni allargate io stavo pensando stamattina prima di andare in onda tra i tanti pensieri che si fanno dico sarebbe a questo punto con le restrizioni non funziona quando uno viene contagiato di per sé come se venisse è come se avesse perso una partita perché uno che viene contagiato vuol dire che da qualche parte ha sbagliato anche se poi l'avversario è invisibile ma mettiamola come se fosse un gioco uno nel momento in cui viene contagiato è come se avesse perso la partita allora stavo pensando con le restrizioni non funziona con le multe non funziona diamogli un premio allora chi a fine pandemia dimostra di non essere stato contagiato prende un premio quanto boh mille euro siamo 60 milioni 60 milioni di euro cosa vuoi che sia non è nulla quindi mille euro a chi dimostra a fine pandemia di non essere di essere stato bravo a non farsi contagiare non farsi contagiare significa aver rispettato le regole e quindi aver fatto bene il proprio lavoro chi invece si è contagiato chi invece è contagiato mille euro gli deve dare ok oppure si paga le cure così magari gli passa la voglia di e i soldi che vengono incassati per le multe con queste multe chiamamole così li diamo a chi ha bisogno come i ristoratori e tutti gli altri che stanno perdendo soldi 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 ristoratori eccetera eccetera era un'idea che condivido insieme a voi nella nostra consueta rassegna stampa che non è una mera lettura dei giornali ma anche un commento e un alla stampa e quindi è un modo per condividere e passare ancora prossimi dieci minuti insieme vedete un altro blocco un altro party un'altra festa bloccata in un garage addirittura sanzionati in 15 ora intanto nessuno paga perché poi abbiamo visto che uno che viene sanzionato fa difficoltà anche a pagare nel senso che non gli interessa pagare la prefettura ogni ogni tanto si fa sentire e dicono e dice che partono le ingiunzioni di pagamento tutte queste cose qua però sta di fatto che tutti quelli che prendono multe di vario genere difficilmente pagano nei guai anche un ristoratore di dunque un ristorante sushi in via ponchielli a presero sempre per assembramento ci sono state le multe anche a gabice e a sei cattolichini trovate a fare gli apericena i carabinieri sono intervenuti al campus per un annunciato scontro organizzato sui social tra minorenni veramente siamo alla follia c'è gente che non riesce a rinunciare agli apericena sembra che è come se fossero dei dipendenti di questi apericena che se non li fanno impazziscono e altri che invece allo stesso modo sempre impazzendo organizzano delle risse cioè delle delle degli scontri organizzati senza motivo attraverso i social tutti insieme appassionatamente punito un locale non gli avventori in viale trieste sempre pesero in via nazario sauro centinaia di ragazzi a passeggio e seduti a bere centinaia di vetture in fila nel pomeriggio di ieri in tutte le vie della zona del mare a cominciare da strade aeroporti scusate strade tra i due porti e quindi insomma anche qua vedete a pesero la storia identica quella di ancona di fano e di tanti altri intanto che cosa succede il virus il covid il virus il coronavirus festeggia festeggia perché di fronte a tutte queste scene chiaramente lui è contento e brinda tant'è che la variante inglese continua a contagiare e quindi pesero in questo momento sta inseguendo ancora ancora lo sappiamo bene la provincia più colpita tra gli ultimi 70 casi emersi in provincia di peso urbino ben sei sono stati individuati in città in città l'incidenza è ancora bassa mentre aumenta lo stress ospedaliero però sappiamo benissimo che anche a loreto quindi in provincia di ancona si è cominciato ma anche in ancona si è cominciato con pochi casi e adesso guardate in che situazione si trova quindi il fatto che siano sei a pesero quelli con la variante inglese se questi sei non stanno buoni e non hanno fatto i danni nelle giornate di ieri o ieri l'altro questi sei potrebbero diventare presto 60 se non di più perché si contagia la variante inglese con molta con molta facilità musica a go go guardate quest'altra fotografia dal corriere adriatico musica a go go e alcolici il rave party nel garage intorno alle 23 sorprese dai carabinieri 15 ragazzi che hanno tentato addirittura di nascondersi tutti multati chiuso il wiki sushi di via ponchielli perché strapieno assemblamento in zona mare e in centro ora ciclista investito invece da un'auto all'incrocio momenti di paura ieri mattina tra largo aldomoro e sulla statale 16 un'automobilista a bordo di una fia 500 ha investito un ciclista che precedeva procedeva nella sua stessa direzione diamo avanti con i giornali allora rissa anche qua guardate pagina 7 del corriere adriatico rissa convocata sulla chat l'ultima sfida dei ragazzini scontro tra due bande di quattordicenni sedato sul nascere addirittura signorine scatenate ok chat bollenti in cui compagnie rivali di minorenni si darebbero appuntamento ma non questo non solo a pesero abbiamo visto anche in altre città in campania napoli eccetera ma un po tu in tutte le regioni ci sono purtroppo situazioni come quelle che stanno arrivando anche da noi qualche settimana fa ad ancona adesso anche a pesero delle bande di ragazzini che evidentemente così per sfogare per sfogarsi hanno organizzato si sono dati appuntamento per per darsele di santa ragione ecco tutto qua uno si organizza per fare che cosa per darsi le botte così senza motivo cade dalla moto invece che lo travolge paura per un giovane corsista nella pista di strada dei pioppi l'enduro si è puntato si è puntato e ha disarcionato il ventenne soccorso dei vigili del fuoco è stato trasportato nelle ambulanza al torrette parliamo di un giovane un pesarese di vent'anni che è caduto rovinosamente a terra allarme bomba invece a fano ma era soltanto un fusto di birra abbandonato davanti alla bocciofila la combattente è stato scambiato per un ordigno mistero su come sia finito lì la buona notizia invece che monsignor trasarti è negativo al covid nella serata di ieri è arrivata la bella notizia per il vescovo e per i tanti fedeli a cui in questi giorni è mancata la presenza fisica di monsignor trasarti che era stato contagiato dal covid e per questo motivo persino ricoverato in ospedale appeso in via precauzionale ora è tornato negativo al covid il vescovo di fano e quindi sarà lui stesso a guidare questa sera il secondo quaresimale anche se ancora in convalescenza infatti il vescovo desidera fortemente tornare a svolgere la sua attività pastorale si legge in una nota inviata nella tarda serata di ieri alla diocesi quindi è probabile che questa sera appunto sia dalle 20.30 alle 21.30 nella basilica di san paterniano come ogni lunedì di quaresima per le riflessioni appunto i quaresimali professionisti fanesi in subbuglio per gli accordi quadro con il comune ordini professionali e cna confronto con la giunta guidata da massimo seri perché le nuove intese potrebbero penalizzare alcune categorie questa è la notizia sempre sul carlino mentre dal corriere adriatico ecco qua a pagina 4 qui si parla di infrastrutture e allora facciamo le barricate le marche condannate all'oblio guzzini duro a dio freccia rossa blocchiamo la ferrovia pugnaloni anci marche si batterà al mit ottavi dice da anni manca una rappresentanza si perde dunque competitività la rappresentanza ovviamente è quella che viene chiesta al governo qualcuno chiede un sottosegretario andreani dice adesso conta solo venire fuori dalla pandemia mentre l'intervista che vi tante offerte dai partiti alle politiche del 2018 superò minniti del pd che ha appena lasciato il parlamento adesso si dice pronto a chiudere con la politica mi corteggia dice cecconi andrea cecconi soprattutto il centrodestra ma io ho idee troppo diverse quindi dice probabilmente chiuderò con la politica anzi senza probabilmente dice con la politica lo dà per certo con la politica chiuderò sotto invece giovane cade con la sua moto da cross alla torraccia soccorso dall'eli ambulanza un trauma cranico e ferite per un ventitreni pesarese mentre i lavori al porto niente acqua da di mattina marche multiservizi effettuerà la sostituzione di alcune valvole e dunque attenzione perché dalle 8 alle 12 vi do anche le vie previsto che sono tanti pesaresi che ci seguono ogni mattina in rassegna stampa allora dalle 8 alle 12 in via sotto la rocchetta via manin verrà interrotta l'acqua oppure ci saranno cali di pressione dalle 8 a mezzogiorno per la per questi lavori che ci saranno appunto al porto di pesaro santorso e si torna affano sul corriere santorso è una terza scelta dai vandali ai video discussi rossi di abitare 90 di un'agenzia di che affitta case vende case dice pochi comprano qui santorso dunque con i suoi problemi di ordine pubblico è oggi a torto o a ragione il quartiere meno appetibile cioè dove la gente si vorrebbe trasferire comprare casa affittare case insomma dove vorrebbe andare a vivere ok gli episodi che si sono succeduti nel tempo sono oltremodo significativi ripetuti atti di vandalismo nei confronti dell'aredo pubblico non sono cessati nemmeno quando l'amministrazione comunale ha installato le telecamere i furti che vengono compiuti nelle abitazioni le risse gli assembramenti soprattutto quello che si è verificato la notte di Halloween dell'anno scorso lo spaccio il consumo di droga che non di rado ha coinvolto anche dei giovanissimi hanno generato nella città una fama non certo lusinghiera della abitabilità del quartiere poi parla la senatrice Rossella Cotto neo sottosegretaria che dice al Corriere Adriatico le prime sfide blocco dei licenziamenti reddito e proroga cassa a Cotto dei Cinque Stelle oggi l'esordio da sottosegretaria il posto della Dem Pugliesi da Urbino invece la proposta l'idea di Federico Scaramucci presidente di Inside Mark Live dopo il tavolo di concertazione con Acquaroli quello di fare del centro storico di Urbino quindi degli appartamenti che ci sono a disposizione nel centro storico di Urbino e come un albergo diffuso quindi con meno studenti mettiamoci allora i turisti a centro pagina invece clienti nel bar Sant'Angelo Invado dopo le 18 chiusura e multe a tutti e poi da Fermignano invece l'appello del sindaco Emanuele Feduzzi per raccogliere soldi raccogliere fondi per una famiglia che ha una bimba malata di tumore sosteniamola nelle cure chiede e dice Emanuele Feduzzi il sindaco chiede ai suoi concittadini un aiuto per la famiglia e allora sempre con il cellulare alla mano se avete possibilità fate la foto a questo codice a questo IBAN che vedete qui eccolo qua l'IBAN lo leggete se potete dare una mano a questa famiglia poi tutto l'articolo trovate sul Corriere Adriatico sempre dal giornale delle Marche dal Val Cesano il covid non allenta la sua morsa crescono i contagi e le quarantene l'alta Val Cesano registra numeri in costante aumento le scuole restano chiuse sotto invece rete tra i musei del mondo dedicati alle fisarmoniche l'archeoclub scrive a tutte le istituzioni per uno scambio qui siamo a Mondolfo invece da Senigallia cresce il contagio tra gli alunni positivi anche i bambini dei nidi vedete come l'età si abbassa lo dicevamo anche nei giorni scorsi il distretto segnala un trend in aumento 582 studenti in quarantena ben 427 sono residenti in città il poliziotto porta a casa la spesa dell'anziana a Monte Marciano il gesto immortalato da un vicino il sindaco dice li ringrazierò guardate che bella questa immagine questo anziano tutto ricurvo su se stesso mentre cammina con le mani dietro le spalle dietro la schiena scusate e il poliziotto con questa divisa con davvero bella commovente grazie per averci seguito buona giornata grazie per averci seguito